Questa volta abbiamo fatto un gruppo sostanzialmente, la quotazione parte e è stata costruita un'azienda, più che un gruppo. L'azienda parte stamattina, ha le dimensioni per competere in questo segmento di mercato, è una delle aziende leader, è diventata una delle aziende leader delle altre quattro aziende leader e quindi competeremo in questo segmento di mercato. Quindi cosa vi aspettate nello specifico grazie a questa quotazione? Grazie a questa quotazione implementeremo il numero dei clienti grazie alle acquisizioni di nuove aziende e quindi prenderemo quote di mercato.